ciao amici di my fastbook bentrovati oggi vi volevo leggere un racconto di luca bianchini l'ho trovato sul sito della vergano e due volte al mese luca scrive dei racconti per loro molto belli andate sul sito della vergano e leggete questi racconti ve ne leggo uno scusa ma non sapevo come dirtelo diana era arrivata un po in anticipo cosa che non le capitava mai si era truccata più del dovuto aveva cambiato idea 18 volte su cosa mettersi e alla fine aveva optato per gli indumenti più scuri del guardaroba il nero snellisce non impegna fa fare bella figura e fa sembrare meno grassa era da un po che voleva parlargli a renzo e alla fine aveva scelto quella mattina era andata vicino al suo ufficio aveva fatto finta di passare per caso e lo aveva chiamato lo conosceva da poco ma lo amava già tanto uno di quegli amori stucchevoli un po tipo la meringata come lo sono quasi tutti all'inizio quelli che non ti nauseano solo se sei il protagonista solo se il protagonista sei tu scusate ora però era un groviglio di dubbi perché non c'è sentimento senza patimento soprattutto se vieni fuori da una storia durata anni e se ormai ci metti tre ore per scegliere una foto su facebook renzo arrivò al bar di corsa aveva le rughe al posto giusto e una giacca che gli calzava pennello lei lo aspettava seduta tamburellando le dita sul tavolino allora che c'è di così urgente niente passavo di qui e volevo farti un saluto ma se stasera dormi da me lo so ma prima ci sono a cena i tuoi amici preferivo vederti un attimo da sola ci facciamo un caffè lui a noi senza dirle che ne aveva già preso un paio ma decise di assecondarla diana chiamò il cameriere e ordinò come al solito un macchiato caldo per lui e uno ristretto per lei con acqua calda a parte l'acqua calda a parte la faceva sempre sentire alla moda il cameriere non era ancora arrivato al bancone che lei lo richiamò indietro mi dica signora e vorrei anche un caffè freddo quindi tolgo il ristretto e metto il caffè freddo no no ne porti più di uno quindi tre caffè il cameriere andò via con il suo blocchetto mentre renzo la guardava sorpreso ma perché ne ordinato uno in più freddo peraltro in questo periodo era giunto il momento di diglielo ed era andata lì per diglielo tra nove mesi si sarebbe raffreddato comunque diana si toccò il pancino e provò a sorridere aveva provato quell'espressione tutta la mattina ma le uscì un po peggio delle prove renzo dilatò le pupille e la guardò con gli occhi tra il felice e il perplesso quelle emozioni così forti che non hanno nome chiamò di nuovo il cameriere che non ne poteva più e gli disse il mio lo porti corretto grappa grazie questo racconto è fantastico domani esce il libro suo di luca bianchini dimmi se credi al destino se vi è piaciuto il modo in cui scrive io vi consiglio di andarlo a prendere perché secondo me è un romanzo fresco bello come sono sempre i suoi libri e andate sul sito della vergano così leggete anche gli altri racconti di luca ora vi saluto ciao a tutti e alla prossima